Fuck me, fuck me, it can't be very bad Tanto non c'ha un verso, no? È una bull. Allora, abbiamo chiesto al pubblico di farci delle domande, vogliamo soddisfare le vostre curiosità, visto che siamo addirittura d'arrivo con questa stagione. Mike Lennon si aggirerà con un microfono nel nostro pubblico per dare voce alle vostre domande. Vediamo la prima, la prima, la prima, la prima, la prima. La prima è di Sara C. Sara C? Dov'è Sara C? Sara C? Ah, eccola là, Sara. Eccola, eccola, eccola. Mi piace la tua attitudine, Sara C, perché è una domanda che... Ciao. Ciao, ciao Sara. Sara C vuole sapere quanto alcol beviamo mediamente durante il programma dalle mitiche tazze di stasera Ciacattela. E ci tengo a precisare, non ho chiesto se bevete, ma ho chiesto quanto. Allora, Sara, mi dispiace deluderti, mi dispiace principalmente per me, ma poi mi dispiace anche deluderti. Nelle nostre tazze c'è acqua, però ti racconto questo simpatico aneddoto. Al grande Barbaramide ogni tanto ci avete visto bere delle birre, no? Con dei bicchieri di plastica trasparente dove beviamo delle birre. Siccome in Rai è proibito introdurre alcol, quelle birre sono analcoliche, ok? Tristezza. Io non ho mai capito il processo mentale per cui farci bere per finta delle birre che però sembrano vere a chi ci guarda da casa. A questo punto mettetele in un bicchiere colorato e fateci bere delle birre normali. Come? Oppure il tè alla pesca, voglio dire, se deve sembrare... Piuttosto a questo punto facciamo tè alla pesca, invece niente. Ci obbligano a bere birre analcoliche ma che sembrino vere. Sara C, ti ringraziamo. Grazie. Ti ringraziamo molto. Mike, devi andare da Caizia. Ah no, Carla, Carla. Carla? Eccola, eccola. Effettivamente Carla è molto più normale di Caizia, non so perché mi sia venuto in mente... Carla, Carla, quando è stato il momento in cui sei salito su un palco e hai pensato non ce la posso fare? Questa è la tua domanda, è corretto? Ma tu intendi per la paura, la tensione? Che ti sei emozionato, che hai detto stavolta forse non riesco a portare a termine una cosa. Ah, perché io stavo pensando un'altra... Allora, per l'emozione... Quello non mi viene in mente. Uno dice, ah, l'Eurovision. Sì, a teatro un pochino ero emozionato, però la volta che ho proprio detto non ce la posso fare Trieste, piazza di Trieste 2006, TRL, stava per cantare Duncan James dei Blu sul palco di TRL. Ve li ricordate i blu? Sì. A chi mi dice... C'è quelli lì, ok? Mi è venuto improvvisamente un attacco di mal di pancia, Carla, ma che non ce la facevo più e Duncan James non saliva sul palco. Io continuavo a dire, Duncan James, c'è Duncan James, ci siamo, Duncan James. Lui era in ritardo, alla fine è salito. Io sono corso nel bagno del mio camerino e rientrato in tempo per la fine della sua esibizione così. Duncan James. Duncan James. Professionista. Quindi quella è stata la vera volta in cui ho pensato non ce la posso fare, ma alla fine ce l'ho fatta. Grazie. Vediamo un'altra, vediamo un'altra. Silvia Mastromattei. Brava che hai scritto anche il nome. Eccola qua la Silvia Mastromattei. Aspirante regista? No. Sì? No. No, tu dico. Sei aspirante regista? Chi lo sa. Ah, chi lo sa. Però ti piacerebbe? Sì. Perché la domanda è molto tecnica. Silvia chiede, quanti punti camera, cioè quante inquadrature, quanti punti camera ci sono nello studio? Esatto. Non ne ho idea. La risposta è una cifra. Dovrei saperlo, ma non ne ho idea. Se vuoi però li possiamo contare. Eh, è lui. Cioè, Christian Biondani, il nostro... Christian, non ho idea di quanti punti camera... Vedo dei numerini scritti sulle... Allora, contiamoli tutti insieme. Vediamo se li prendo anche. Ecco. Uno. Poi due. Questo è facile. Tre. Ecco, tre. Anche lui contiamo. Sì, certo. Aspetta, aspetta, dove è questa? Dove devo mettermi? Dov'è? Eccolo. Dove sono? Qua? Eh, ok, quattro. C'è anche il macchinino. È questo qua. Cinque. 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 Dov'è? Ah, sei tu? Cinque. Poi? Sei. Dov'è? Ah, quello là. Ciao. Ciao, questo è sei. Poi? Sette. 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 Madonna, ma così tanti ne abbiamo. Ma servono tutti? Poi dopo il sette? Otto. Otto quella... Otto, eccoci qua. Sì? Otto. Questa vabbè? La dove? Ah, qua. Ma c'è una camera là? Ma non l'ho mai lì. Nove. Ciao. Poi? Ah, questa è dietro il barbarame. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Dov'è? Eccoli. Questa? Questa qua? Perfetto. Tiremo una... Ah, ecco di là. Quanto siamo? 10? 10? 10? Basta? Ah, è il totale... Eh? Ah, era la unica... Quindi ne abbiamo 11? Ma che ricchezza, ragazzi. 11? Ah, ma... Sono tantissime. Spero di aver soddisfatto alcune delle vostre curiosità. Se volete commentare... Dove ve lo dico? Ve lo dico sulla 2? Eh... Se volete commentare quello che vedete in questa puntata, potete farlo. Usate il nostro hashtag ufficiale. Stasera c'è Cattelan. Oh, wow.